Puoi farlo, noi non moriremo qui, sta provando Che diavolo? Salve, testiferi ragazzi Chi è questo pazzo buffone? Spero di non essere in ritardo per la festa Sì Sì Pensavo ti servisse una mano, ma qualcuno mi ha anticipato. Lusifer, va tutto bene? Mi sembri diverso? Beh, per te sono passati un paio di mesi, ma sai, laggiù il tempo è diverso. Per me sono passati migliaia di anni. L'unica cosa che mi ha fatto andare avanti è stato pensare a te. Non andrai la sua ad aiutare la tua amica? Ho piena fiducia nella detective. Lei è perfettamente in grado di badare a se stessa. Sono esattamente dove devo essere. Ok, amico. Fa come vuoi. Starà benissimo senza di me. La mia assuntura è stata pensare a te. Sono, che non la sia, la mia assuntura. Per me sono. Ho pieno di persone che mi ha fatto, ho pieno di persone che mi ha fatto. È tutto bene.